Per agevolare gli spostamenti degli studenti che il prossimo 7 gennaio riprenderanno la scuola in presenza in provincia di Reggio Calabria sono state previste 66 corse aggiuntive che interesseranno 43 linee con un incremento quotidiano di oltre 3.400 km per le linee extraurbane di circa 260 km per quelle urbane e quanto emerso nel corso della riunione in videoconferenza presieduta dal prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani nel tavolo di coordinamento per il raccordo tra gli orari di inizio e di termine delle attività didattiche e gli orari del trasporto pubblico locale previsto dal DPCM del 3 dicembre 2020. Le diverse componenti del tavolo, sindaco della città metropolitana, assessore regionale alle infrastrutture, i dirigenti dell'ufficio scolastico regionale e provinciale ed ancora il dirigente della motorizzazione civile in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ancora i rappresentanti della società che effettueranno i servizi di telecomunicazione ed ancora i rappresentanti delle società che effettueranno i servizi di trasporto, iscritti in una nota, hanno favorito il proprio contributo per delineare un quadro complessivo delle esigenze legate al trasporto degli studenti pendolari al fine di predisporre un piano degli eventuali servizi integrativi necessari a quantificare i costi. Alla luce delle risultanze e l'attività del tavolo, il prefetto ha redatto un documento operativo volto a garantire la ripresa in condizioni di sicurezza il prossimo 7 gennaio delle attività in presenza. Si stima, prosegue la nota, che siano oltre 16.000 gli studenti pendolari che dovranno raggiungere 35 istituti scolastici di secondo grado a 20 sedi nei 16 comuni. Si tratta di Bagnara Calabra, Bova Marina, Bovalino, Città Nova, Gioia Tauro, Locri, Marina di Gioiosa Ionica, Merito Portosalvo, Oppidoma Mertina, Palmi, Polistena, Reggio Calabria, Roccella Ionica, Rosarno, Siderno e Villa San Giovanni. Gli orari di inizio delle lezioni saranno individuati dai dirigenti scolastici in raccordo con i sindaci dei comuni interessati nella fascia dalle 8 alle 14. Sarà assicurato il costante monitoraggio dell'attuazione del documento operativo attivando miranti servizi di controllo al fine proprio di contrastare il rischio del verificarsi di assembramenti presso le fermate dei mezzi di trasporto. Eventuali criticità potranno essere segnalati dalle componenti istituzionali coinvolte al tavolo di coordinamento che si avvarrà a tal fine di un nucleo di monitoraggio dell'emergenza Covid-19 già attivato presso la Prefettura.